Cala il pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che comporta il blocco delle attività della flotta italiana lungo l'Adriatico. Lo stop inizialmente avverrà da Trieste ad Ancona e da Bari a Manfredonia, mentre lungo l'Adriatico, nel tratto centrale da San Benedetto e Termoli, le attività si fermeranno il 16 agosto e fino al 21 settembre. Una pausa che, come sottolinea Col Diretti in Presa Pesca, avviene in una situazione in cui i prezzi di vendita al dettaglio per il pesce fresco e refrigerato sono aumentati del 10,4% nel mese di luglio per effetto del clima e dell'aumento insostenibile dei costi. Qual è la situazione attuale e che cosa succederà nel prossimo mese? Nel prossimo mese intanto staranno fermi, questo è un dato di fatto, dal 29 di luglio all'11 di settembre ci sarà il blocco. Il blocco delle barche a strascio ovviamente, è vero, sono quelle più produttive, ma è anche vero che qualcosa di pesce fresco lo troveremo, dalle barche della piccola pesca, da altre unità che fanno anche reti da posta d'altura. E, novità quest'anno, nel porto di Fanno sono tornate una coppia di volanti, era 30 anni che non avevamo più sbarchi di pesce azzurro nel nostro porto, e è tornata una coppia che aumenta le specie che i consumatori possono trovare sul banco. Invece, per quanto riguarda il malcontento di pescatori, ha poi aggiunto Giardini, è chiaro che veniamo da un periodo di magra, ha detto. Notoriamente i mesi di maggio, giugno e luglio sono quelli di povertà del prodotto ittico, salvo poi ripartire a settembre con quantità notevoli di pescato che dovrebbero ribilanciare le perdite subite, le quali derivano dai costi di gestione e soprattutto la voce carburante che è più che raddoppiata. Cerchiamo di essere positivi, speriamo che le cose vadano per il verso giusto e speriamo che ci possa essere una, anche seppur minima, discesa del costo del gasolio. Il costo del gasolio che è importante nel nostro settore perché, come si diceva più volte, le imbarcazioni stanno in mare quattro giorni alla settimana, ma quei quattro giorni stanno sempre con il motore acceso. A differenza dei camionisti che possono anche fermarsi, spegnere i motori, loro non possono. Gli operatori sono consapevoli quindi dell'importanza anche del fermo pesca? Sì, gli operatori ormai da 35 anni effettuano il fermo, quindi sono coscienti che il fermo ha una capacità di ricostituzione delle risorse importante. Il problema sta nel fatto che la diminuzione delle giornate di pesca ormai è oltre il fermo pesca, perché non è questi 40 giorni di fermo pesca che poi determinano i bilanci. Sono le giornate aggiuntive che l'Unione Europea, nel contesto di piani di gestione dell'intero bacino adriatico, ha imposto ai nostri pescatori e questo fa sì che ormai si arrivi a 130 giorni, soprattutto per le unità più di stazza maggiore, 130 giorni di pesca nell'arco dell'anno. Significa che siamo quasi a un terzo delle giornate nell'arco dell'anno per le cose che si può lavorare, quindi è difficile chiudere dei bilanci in maniera positiva quando si hanno tanti giorni di inattività forzata.